L'idea economica, la si può riassumere con questa frase, è l'idea secondo cui la gestione dei beni comuni va rimessa nelle mani dell'elite, il pubblico deve farsi da parte e attendere fiducioso che il bene gli coli addosso dall'alto dell'elite, e viene promesso che questo succederà, anche i governi devono mettersi da parte, restringere le proprie funzioni, il proprio campo di influenza e permettere questo processo di discesa del bene dall'elite verso il popolo. Questa è l'idea che si affermò, che cominciò ad essere ventilata 38 anni fa e da 38 anni...